Il mio intervento si colloca nelle tre salienti dell'incontro Condanna, diritto, utopia. Ecco, il lavoro di cui parlerò sta un po' tra la condanna e un po' tra l'utopia. Per questo vorrei cominciare dalle Georgiche di Virgilio, dal primo libro delle Georgiche di Virgilio, in cui ai versi grossomodo 118 e seguenti, perché intendesse poi andarseli a vedere, Virgilio enuncia un po' il mito di fondazione del lavoro agricolo. Così possiamo chiamarlo. Prima elenca in modo sintetico numerose attività che si svolgono sui campi, eccetera, e poi se ne esce in queste parole. Eppure, dopo tanta fatica di uomini e di buoi nel voltare e rivoltare la terra, ecco che le oche ingorde o le grude e lo strimone vengono a produrre i loro danni, così come la cicoria dalle amare fibre o l'ombra nociva. Per quale motivo il lavoro agricolo è condannato a subire simili danni a rispetto delle fatiche umane? Ed ecco la risposta mitica elaborata da Virgilio. È il padre Jupiter, lui stesso, che ha reso non facile la via della coltivazione e per primo fece smuovere con arte la terra dei campi, aguzzando con le preoccupazioni i pensieri dei mortali, non sopportando, ecco questo è il punto, non sopportando che i suoi regni intorpidissero, torpere, usa il verbo torpere, che i suoi regni intorpidissero in preda al Veternus. Ora vedremo fra un momento cos'è questo pericoloso Veternus che Jupiter temeva tanto per gli uomini. Ma intanto chiediamoci per quale motivo i regni di Jupiter, le campagne abitate dagli uomini, avrebbero dovuto intorpidirsi? Perché prima che Jupiter salisse sul trono, continuava Virgilio, ecco e cito di nuovo, Nessun contadino lavorava ai campi, non era neppure permesso marcare i terreni o dividerli con un confine. Il cibo era a disposizione di tutti e la terra spontaneamente portava ogni cosa con grande liberalità, senza che nessuno dovesse chiedere niente. Fu Jupiter che fornì ai neri serpenti il loro malvagio veleno, ai lupi ordinò di far preda e al mare di sconvolgersi, scosse giù il miele dalle foglie e nascose il fuoco, fermò il vino che scorreva nei ruscelli, in modo che poco a poco la necessità desse forma alle diverse arti con l'esperienza e cercasse nei solchi la pianta del frumento, facendo balzar su dalle vene della selce il fuoco nascosto. E così poi continua. Finché dopo aver enumerato tutte le attività che l'uomo fu costretto a escogitare per sopravvivere, conclude, vennero le diverse artes, le diverse capacità umane, le diverse arti, e il labor improbus, la dura fatica, fu vittoriosa su tutto e il bisogno che preme nelle difficoltà della vita. Questo mito virgiliano seglia la nascita del labor improbus, del lavoro dei campi, inteso come una fatica dura, eccessiva, crudele, perché lo chiama improbus. E labor, come sapete, in latino non significa lavoro, ma significa fatica. Quindi è una fatica crudele che Jupiter impone. Esso sarebbe stato direttamente imposto dagli uomini, marcando in questo modo che cosa? La fine dell'età dell'oro, l'ha detto. Mentre prima non si segnavano i campi, non c'era bisogno di scavare, di disseminare, di produrre, eccetera, poi Jupiter intervenne e introdusse il labor improbus. Quindi questa epoca di serenità, di prosperità, che la mitologia romana collocava direttamente sul suolo del Lazio, sotto il regno di Saturno, viene sconvolta dall'intervento di Jupiter. Si tratta di una visione piuttosto cupa dell'agricoltura e che contrasta con la facilità di vita garantita agli uomini dell'età precedente, salvo che questa età, ecco l'età dell'oro, in apparenza così felice e priva di durezze, agli occhi di Jupiter presentava un pericolo. Gli uomini sarebbero sprofondati nel VETERNUS. Che cos'è il VETERNUS? VETERNUS è un aggettivo che deriva da VETUS, cioè VECCHIO, quindi tutto ciò che è VECCHIO, quindi porta con sé le connotazioni della VECCHIAIA, la decadenza, l'indebolimento, l'infiacchimento, eccetera, eccetera. Probabilmente sottontende MORBUS, MORBUS VETERNUS. E' insomma una specie di malattia della VECCHIAIA che indebolisce le facoltà spirituali ed è simile a quello che i greci chiamano l'ETHARGOS, da cui il nostro letargo, l'ETHARGOS, l'UBLIO, il cadere nella dimenticanza. Il VETERNUS è una forma di pigrizia endogena, un freno all'azione, è una paralisi spirituale. Noi potremmo tradurre VETERNUS con DEPRESSIONE e non sarebbe sbagliato. E i romani temevano il VETERNUS, lo evitavano, pensavano che da esso fosse necessario scuotersi. Come testimonia quel personaggio di Plauto che afferma preferisco di molto fare qualcosa piuttosto che dormire, ho paura del VETERNUS. aveva paura che dormendo troppo poi quando si svegliava era preda del VETERNUS. Allo stesso modo, il Celio di Cicerone dichiarava che se non si fosse scontrato in città con tavernieri e acquaioli, Roma sarebbe stata preda del VETERNUS. Se non ci fossi io, gli do un po' di vita scontrandomi con questa gentaglia, Roma si sarebbe afflosciata. E così anche gli animali devono essere riscossi da questo stato di torpore che Columella diceva bisogna fare muovere, fare girare, stimolare il greggio, altrimenti il greggio cade nel VETERNUS e poi gli animali muoiono. Insomma, il VETERNUS è una cosa seria che Catullo, in uno dei suoi epigrammi, definiva anzi STOLIDUS VETERNUS, cioè ci aggiungeva una piccola nota. Non si è soltanto fiacchi, piri, ma anche un po' istupiditi, un po' tonti, diciamo. Questo era lo stato in cui, secondo Jupiter, sarebbero piombati gli uomini se lui non fosse intervenuto facendogli lavorare, rendendogli la vita difficile, diciamo, una vita troppo facile, produce, noi potremmo dire, la depressione. Un'affermazione che potrebbe anche suonare attuale in un paese che fa un uso smodato, come è noto, di antidepressivi. Quindi, evidentemente, c'è un legame con una certa stabilità, almeno di alcuni gruppi, e la depressione. tra l'altro, apro una parentesi, la storia della depressione e dei modi in cui è stata chiamata sarebbe interessantissima da sviluppare, perché per i romani esiste addirittura una dea, la dea Murcia. La dea Murcia è la dea che rende inerti, inertes, che infiacchisce, che rende deboli. Poi, in seguito, oltre che Veternus, si comincia a usare in latino anche la parola greca achedia, che è la pigrizia, che diventa la nostra acidia. E acidia ha poi tutto un suo percorso affascinantissimo, perché entra nella religione cristiana e diventa un peccato. Cioè, qui, siamo in una fase in cui la depressione, l'incapacità di fare, il sentirsi deboli e fiacchi, viene colpevolizzato. noi tendiamo a medicalizzare il Veternus, e i cristiani, invece, chiamandolo l'accidia, tendevano a punirlo. Per esempio, Petrarca, che poi era un uomo tutt'altro che acidioso, perché ha scritto come un pazzo, e studiato ancora di più, però si accusava di acidia. Diceva, io, il mio peccato è l'accidi. Quindi questo sarebbe, come dire, partendo da Murcia e dal Veternus, su su, sarebbe una storia interessante. ma noi non vogliamo abbandonare il testo di Virgilio. E questo, il messaggio ideologico veicolato da questi versi, dunque, se voi non lavorate, uno, rischiate di cadere nel Veternus, due, questo è un obbligo che vi ha imposto Zeus, quindi, scusate, Jupiter, quindi, piccoli agricoltori che vi spaccate la schiena sul campo, schiavi operari che lavorate incatenati, eccetera, rendetevi conto che lo dovete fare perché è Jupiter che l'ha imposto. E anche voi, proprietari terrieri che imponete queste fatiche ad altri uomini, rendetevi conto che è stato dalla parte di Jupiter perché è lui che l'ha voluto. Ecco, l'età dell'oro quindi si presenta, ecco la componente ideologica, si presenta come esattamente l'età dell'antilavoro, è il rovescio del lavoro. Si potrebbe dire che è un mito creato per sottrazione, si toglie il lavoro dei campi, si toglie la spremitura dell'uva e quindi la produzione del vino perché il vino scorre liberamente nei ruscelli, si toglie di mezzo la raccolta del miele perché il miele è spontaneo e via, ecco, si cancella tutto e si rende l'umanità felice di non lavorare salvo che diceva Jupiter però così rischiate il Veternus. Quindi io vi ho salvato facendovi soffrire condannandone diciamo alcuni di voi non tutti al laborim propus. Ci ho detto volevo passare a una seconda riflessione che fa parte della componente utopia del mondo del lavoro provando a fare una domanda diciamo impertinente. D'altra parte quando si vuole capire meglio una cultura si vuole entrare dentro una cultura se la domanda viene da un angolo un po' imprevisto da un angolo diverso dal solito c'è più speranza di avere risposte interessanti. E allora la domanda che io vorrei porre impertinente e la pongo all'età dell'antilavoro dell'oro è questa ma nell'età dell'oro esisteva almeno il commercio cioè quello che i romani chiamavano il negozium mercature c'era era previsto sembrerebbe di no perché dato che la terra produce spontaneamente i frutti non c'è bisogno di commerciare di scambiare che sono poi quegli aspetti diciamo conseguenti al lavoro sono indispensabili alla produzione economica si produce poi si commercia si scambia e così si va avanti nell'economia quindi sembrerebbe proprio di no che non ci fosse oppure invece invece c'era c'era qualcosa di simile al commercio certo se c'era doveva essere un tipo di commercio del tutto insolito un tipo di commercio del tutto adeguato in qualche modo ai principi utopici dell'età dell'oro che commercio poteva essere o meglio esiste una variante una qualche variante del mito dell'età dell'oro che prevede anche l'esistenza del commercio un po' questa la domanda una prima risposta la possiamo trovare in un dialogo di filostrato uno diciamo dei due filostrati questi celebri scrittori retori greci del secondo secolo dopo Cristo che ha scritto un graziosissimo dialogo fantasiosissimo che si chiama l'eroico nell'eroico di filostrato si svolge a un certo punto un dialogo fra un vignaiolo e un mercante fenicio e il vignaiolo rimprovera ovviamente il mercante di cosa? di essere una persona avida e ingannatrice alla maniera di tutti i mercanti vedremo che questo aspetto del negozio mercature cioè del lavoro del mercante l'ingannare e l'essere avido è un po' una costante che dovremo seguire nelle nostre riflessioni il mercante fenicio seccato risponde al vignaiolo anche tu però dovrei cercare di vendere il mosso e il vino a qualcuno se no come fai a campare il vignaiolo risponde questo è indispensabile visto che non si vive nel paese dei ciclopi in cui la terra produceva tutto spontaneamente comunque dice io col commercio ho poco a che fare perché non tratto con i mercanti tanto per cominciare non so neanche cosa sia una dracma quindi non usa il danaro ma vendo e compro o compro il bue scambiandolo col grano il capro scambiandolo col vino e così di seguito quindi lui pratica solo il baratto pratica solo il baratto pronunzio poche parole e poche ne ascolto quindi parla il meno possibile lui commercia dice sì sono costretto a fare un po' di commercio ma che commercio è il mio beh io non uso il danaro non vendo e non compro io baratto le cose e cerco di parlare il meno possibile e di ascoltare soprattutto il meno possibile a questo punto il fenice gli ribatte ma tu stai parlando del mercato dell'età dell'oro eccolo cruisea gorà più adatto agli eroi che non agli uomini ecco una prima traccia per il mercato dell'età dell'oro ce la dà il vignaiolo cioè barattare e parlare il meno possibile non usare danaro eccetera eccetera in esso in questo tipo di mercato ha poco spazio la parola scambiata questo è molto interessante non c'è contrattazione e quindi se il mercante fenicio ha ragione esisteva una qualche forma di commercio nell'età dell'oro e se esisteva doveva essere simile a quello che ci ha appena detto il vignaiolo cioè a un tipo di commercio elementare quindi esistevano varianti di questo mito esistono varianti di questo mito in cui si prevede l'esistenza di un commercio ma evidentemente doveva avere delle caratteristiche questo commercio delle caratteristiche diciamo strutturali che lo rendevano conforme alla mitica età dell'oro che era dominata come sappiamo dalla semplicità dall'essenzialità nel vestire nel cibo del comportamento eccetera eccetera ora si tratta solo di un mito cioè di una battuta che fa il mercante fenicio oppure ci sono testimonianze nel mondo antico che questo tipo di commercio come lo descrive il vignaiolo esisteva cioè un commercio dove si parlava poco e si barattava e quindi vabbè con una serie di conseguenze immaginabili esisteva ecco e qui possiamo cominciare a seguire una pista che ci porta fino all'età moderna fino al 400 ma ci porterebbe anche oltre la pista parte da Erodoto tanto per cambiare perché verso la fine del quarto libro Erodoto racconta questa storia i cartaginesi raccontano che c'è una regione della Libia abitata da uomini i quali vivono al di là delle colonne d'Ercole quindi siamo fuori dallo spazio ritenuto culturalizzato diciamo culturale da parte dei greci quando i cartaginesi arrivano fra costoro scaricano le merci le dispongono in ordine lungo la spiaggia poi risalgono sulle navi e sollevano una colonna di fumo gli indigeni vedendo il fumo vengono al mare e poi a fronte delle merci depongono dell'oro e si ritirano i cartaginesi sbarcano nuovamente e controllano se l'oro sembra loro adeguato al valore delle merci lo prendano e si allontanano altrimenti imbarcatisi nuovamente stanno ad aspettare e gli altri fattisi avanti depongono altro oro finché li persuadono e poi continua erodoto non si fanno mai reciprocamente torto perché né i cartaginesi toccano l'oro prima che gli indigeni abbiano reso pari al valore delle merci né questi toccano le mercanzie prima che gli altri abbiano preso l'oro cioè non succede che questi escono afferrano la roba scappano e se ne va no è un regime di grande giustizia però questi non si vedono nemmeno non solo non si parlano ma proprio non si non si conoscono potrebbero essere chiunque no quindi è una forma di scambio che sembra abbastanza simile a quella che prospetta è un'altra il venaiolo per l'età dell'oro cioè in cui si parla poco o nulla non si usa l'anaro si baratta eccetera eccetera e in più c'è questo elemento molto interessante della giustizia cioè non si fanno mai torto uno si aspetterebbe che una delle due parti si approfittasse dell'altra e invece questo non accade in realtà questa testimonianza di Erodoto ha avuto una grande fortuna fra gli storici e diciamo i teorici dell'economia perché nel 1903 uno studioso che si chiamava Philip Hamilton Grierson attribuì a questo tipo di scambio un ruolo importante cioè l'economia umana sarebbe cominciata così cioè i primi scambi tra gli uomini si sarebbero svolti secondo quello che lui chiamava il modello del silent trade il commercio muto il silent trade ora questa ipotesi di Grierson poi molto evolutiva è stata abbandonata da gran tempo eccetera eccetera però a dimostrazione di quanto questo passo di Erodoto ha avuto fortuna nella nostra cultura a noi interessa però notare come in Erodoto ci sia già tutta una serie di elementi che incontreremo anche in resoconti successivi fino all'età moderna in primo luogo questo tipo di transazione si consuma con popolazioni lontane remote remote nello spazio i Libi abitano fuori dalle colonne d'Ercole inoltre inoltre lo scambio in un luogo liminare su una spiaggia che separa due mondi la terra dal mare e poi un'assenza totale di reciproco controllo nessuno controlla l'altro e questa assenza di controllo però è compensata dal fatto che c'è una regola e questa regola è la giustizia non ci si fa torto quindi la superiore presenza di diche come dice Rodoto la superiore presenza di diche la giustizia come arbitra dello scambio rimanda anche lei alla mitica età dell'oro che era proprio un mondo dominato dalla giustizia assoluta dalla pace e dalla giustizia se dai greci passiamo ai romani avremmo diverse testimonianze etnografiche interessanti da analizzare però noi ne prendiamo in esame soltanto una che viene da Pomponio Mela trascuro a malincuore Plinio il Vecchio perché come al solito questo scrittore che a volte è così ostico così duro ma che sembra anche così sciatto però ha delle espressioni molto felici per definire questo tipo di commercio che vi ho descritto lui lo definisce un commercio fatto nullo commercio lingue con nessun scambio di lingua quindi è uno scambiarsi nullo commercio lingue più bello di Silent Trade mi piace più nullo commercio lingue allora Pomponio Mela dopo aver descritto le terre del settentrione fino alla misteriosa ultima Tule il suo veriple riprende verso oriente in direzione dell'India attraverso le regioni scitiche e dice Pomponio Mela sono sciti gli androfagi e i saci separati da una regione inabitabile perché rigurgita di fiere di seguito vi sono nuovamente luoghi infestati da belve fino a un monte a picco sul mare di nome Tabi a grande distanza da esso sorge il monte Tauro nel mezzo abitano i seri una stirpe di grande giustizia eccolo un'altra volta notissimi per il loro modo di praticare il commercio lo conducono infatti a distanza lasciando le merci in luoghi solitari quindi anche i seri che sono poi i produttori della seta quindi sono produttori importanti perché da loro viene la seta che poi viene portata fino a Roma la seta la commerciano così non si fanno vedere la lasciano in un luogo aspettano è lo stesso meccanismo che abbiamo visto con con Erodoto di nuovo il commercio muto viene praticato con genti lontane che abitano terre remote anche in questo caso lo scambio prevede la reciproca assenza delle parti e un grande rispetto per la giustizia e bisogna avere a che fare con una stirpe di grande giustizia come diceva un po' Neomera i seri altrimenti il commercio non si può fare è una cosa che come sappiamo è un altro modo per richiamare un po' il mito e l'utopia dell'età dell'oro però possiamo anche uscire dal mondo classico perché no e avviarsi verso quello a noi più vicino passando per il quarto quinto secolo dopo Cristo e in compagnia di un viaggiatore cinese Fa Hien Fa Hien era partito alla ricerca dei libri buddhisti della sua disciplina e per fare questo intraprese una lunga peregrinazione che lo portò in India e poi a Silo insomma in Sri Lanka e dove giunse in un luogo chiamato Shingala Plinio lo chiamerà a sua volta Taprobane l'aveva chiamato Taprobane però Fa Hien lo chiama Shingala e che cosa dice di Shingala Fa Hien in origine il paese non aveva abitanti umani ma era occupato solo da spiriti e Naga nome locale per indicare un tipo di spiriti con cui i mercanti di vari paesi commerciavano quando lo scambio aveva luogo gli spiriti non si mostravano semplicemente esponevano le loro merci preziose con attaccati dei cartellini che indicavano il prezzo i mercanti acquistavano secondo quanto indicato e si portavano via la merce qui c'è una variante cioè si mette il bollino del prezzo sulle merci lasciate per il commercio mutuo c'è già scritto quanto vogliono diciamo mentre nell'altro modo c'era sia in erodoso sia in pomponi o mela questo meccanismo interessante della contrattazione a distanza in muta tornare poi aggiungere poi aggiungere fino a trovare soddisfazione no qui ci chiede direttamente gli spiriti Naga vogliono un tot e questo tot gli viene dato la natura di spiriti o Naga assunta da una delle due parti della transazione è abbastanza nuova adesso il commercio mutuo si sposta direttamente nel territorio del soprannaturale stavolta non siamo di fronte solo a popoli remoti ma direttamente a creature non umane vediamo anzi in che modo un viaggiatore arabo dell'undicesimo secolo cioè Abu Hamid al-Garnati parla dei popoli che vivono sul volga e che commerciano con quelli che stanno sulle rive del mare delle tenebre così lo chiama è un racconto veramente favoloso questo dicono i mercanti che le tenebre sono vicine a questo popolo e che i yura cioè gli abitanti che stanno appresso al mare delle tenebre si recano in questa tenebra addientrandovesi al lume di fiaccole e trovano un albero grande come un villaggio su cui sta un grande animale che dicono sia un uccello e portano con loro delle merci ogni mercante colloca la sua roba a parte ci fa un segno e torna indietro poi tornano lì e trovano altre merci adatte al loro paese ognuno ne trova una certa quantità messa lì accanto alla sua mercanzia e se gli va la prende o se no si riprende la sua roba e lascia l'altra con scrupolosa onestà di nuovo il tema dell'onestà e della giustizia altrimenti il suo commercio non si può fare anche l'altro viaggiatore arabo più celebre Ibn Battuta riferisce che risalendo il Volga visitò la città di Bulgar da cui aggiunge avrebbe voluto recarsi nel paese delle tenebre ma poi vi rinunziò per le grandi difficoltà e il poco frutto di questo viaggio sembrano racconti di Borges in realtà sono dei viaggiatori veri che fanno questi resoconti Ibn Battuta però riferisce basandosi sui racconti altrui che i mercanti si inoltrano in quelle terre solo con slitte trainate da cani anzi solo questo animale sa guidarli fin lì quando infine i mercanti hanno compiuto in questo deserto 40 tappe arrivano alle tenebre la essi praticano il commercio mutuo delle belli di zibellino di scoiattolo e di ermellino secondo quel solito meccanismo Ibn Battuta aggiunge poi questa interessante osservazione coloro che vanno là non sa se quelli che vendono e comprano da loro sono uomini o genii non vedono mai nessuno come nella scingala di Fayem la natura dei partner invisibili oscilla dunque fra umanità e soprannaturale così come quel misterioso uccello appollaiato sul grande albero avviciniamoci ancora di più a noi già in età moderna con il resoconto di un viaggiatore veneziano Alvise de Camosto che a 22 anni nel 1415 si imbarca al servizio dell'infante Enrique de Portogallo e i portoghesi erano già grandi navigatori quindi se un italiano un veneziano voleva navigare si doveva mettere con gli spagnoli con i portoghesi quindi al servizio di Don Enrique del Portogallo compì due viaggi lungo la costa atlantica dell'Africa e giunse fino alla Guinea-Bissau che poi diventerà in seguito un dominio portoghese tornata a Venezia nel 1463 quindi dopo dieci anni Alvise scrisse una relazione che possediamo e quando narra del commercio di Salgemma che si svolgeva fra Tagazza una miniera molto ricca in Mauritania e la regione dei Melli cioè l'odierno Mali Alvise riferisce anche quanto appreso dai mercanti che si recano fino in Mali per smerciare il loro sale cioè questi mercanti si partono da Tagazza vanno fino in Mali lì lasciano il loro sale e che cosa fanno i mercanti del Mali col sale che hanno acquistato e la risposta è molto interessante perché del sale ricevuto gli abitanti del luogo cioè quelli del Melli una parte ne tengono per sé parte invece lo dividono in pezzi dopodiché fanno un grande esercito di uomini i quali a piedi compiono un viaggio assai lungo portando ciascuno una porzione di sale sulla testa il viaggio a termine solo allorché essi siano arrivati fino sopra una certa acqua la quale non hanno saputo dire se è dolce ovvero salsa ma probabilmente si tratta del fiume Senegal una volta giunti sulla riva di quest'acqua ciascuno mette finalmente a terra il proprio blocco di sale facendo così una fila di mucchi e pone un segno su quello che gli appartiene dopodiché tutti tornano indietro di una mezza giornata a questo punto arriva un'altra generazione di negri sto citando naturalmente c'è un'altra razza un'altra stirpe di negri che non si vogliono lasciare vedere né parlare scendendo da alcune barche il resto è al solito quello che possiamo immaginare cioè i nuovi venuti lasciano oro sui mucchi di sale si allontanano tornano gli altri negri e alla fine si scambiano oro con sale la cosa più interessante però viene adesso perché ai mercanti che gli raccontavano queste cose Elvise chiese come mai l'imperatore di Melli cioè del Mali non abbia cercato di scoprire chi fossero questi misteriosi partner cioè voi ci andate siete lì vabbè che tornate indietro di una mezza giornata però potreste cercare di scoprire chi sono questi altri i mercanti risposero che per la verità anni prima un imperatore del Melli aveva deciso di catturare uno di costoro con un tranello alcuni suoi inviati si erano nascosti sotto i mucchi di sale e avevano catturato quattro di questi uomini misteriosi salvo poi liberarne tre e tenerne uno solo pensando che sarebbe stato sufficiente ma l'operazione non aveva avuto alcun esito il primo il prigioniero infatti non aveva voluto né parlare benché gli parlassero in molti linguaggi diversi né mangiare sopravvisse solo quattro giorni e poi morì l'imperatore di Melli si dolse molto di questa morte e vuole almeno sapere dai suoi uomini che aspetto avessero coloro che avevano catturato e gli venne detto che sono alti più di un palmo rispetto a noi sono più alti hanno il labbro di sotto così largo che viene loro fino sul petto e questa è una pratica di deformazione del viso che era ancora praticata da certe tribù africane un quindi largo grosso e rosso insanguinato nella parte di dentro misucrature orribili poveretti le labbra poi così divaricate mostrano le gingive e i denti che sono più grandi dei nostri con due grossi denti ai lati mentre la gengiva getta sangue questo è quanto io ho inteso di questa faccenda concludeva il bise di cammosto e poi che tanti lo dicono lo possiamo credere anche noi per la prima volta dunque la tradizione del silent trade del nullo commerciolingue contempla una trasgressione un passaggio uno di quelli che stanno di là dal confine attraverso la zona liminare e viene finalmente di qua fra noi ma i risultati sono catastrofici invece di sciogliersi l'incomunicabilità con il partner misterioso si acuisce nessuna lingua conosciuta riesce a infrangere il muro del silenzio finché la morte intervenendo pone fine all'insostenibile situazione il fatto è che ricorrendo all'inganno e alla violenza l'imperatore di Melli ha violato precisamente i due principi costitutivi del commercio muto la giustizia cioè il reciproco rispetto e il silenzio l'agire nullo commercio lingue come dice Plinio che sono i due tratti appunto che avevamo individuato all'inizio in quello che avevamo chiamato il commercio dell'età del loro non poteva finire che così questo che veniva dall'altro mondo doveva morire un po' come in quei film di fantascienza quando arriva un alieno ma non sopravvive nel mondo di qua perché appartiene a un altro regno le testimonianze strane a quelle provenienti dalle culture antiche condividono dunque i tratti già sostanzialmente presenti nel racconto di Erodoto il commercio muto si svolge in terre lontane misteriose imprecisabili come il mare delle tenebre e così via i luoghi scelti per la transazione sono remoti l'assenza di scambio verbale di contatto personale è sempre rispettata salvo che quella volta in cui la infrangono e il poveretto muore soprattutto però il commercio muto si svolge con stirpi straordinarie per la loro giustizia e spesso per il loro carattere direttamente soprannaturale a questo punto possiamo rientrare verso il mondo classico e avviarsi a una conclusione citando uno scolio alle argonautiche di Apollonio Rodio dedicato alle isole Olie che ci dà ancora una forma diversa del commercio muto e purtroppo sappiamo noi classicisti tutti i classicisti sanno che spesso o frequentemente le notizie più interessanti sul mondo antico ci vengono dagli scoli e anche questo caso lo conferma allora questo scolio dice le isole di Eolo sono sette le Olie in quella fra esse che ha nome Lipari ovvero Astromboli c'è un'incertezza si diceva che dimorasse Efesto e che vi si sentiva il crepitio del fuoco e il battere dei martelli si diceva che in antico chiunque portasse del ferro non lavorato il giorno dopo riscedeva in cambio una spada oppure qualsiasi altra cosa desiderava che gli fosse fatta e lasciava il compenso il compenso per Efesto e i suoi fabbri queste cose le racconta Pitea quindi c'è una fonte Pitea della Marsiglia nella circomanificazione della terra dicendo che anche laggiù il mare rivolle il luogo in cui lo scambio si svolge è eccezionale Stromboli o Lipani la sede dei fabbri divini anche il tempo lo è perché certe cose dice lo scoglio venivano in antico ora non avvengono più il cliente se così possiamo chiamarlo portava la materia grezza e il ferro non lavorato il giorno dopo sempre in assenza di parole o di contatto al posto di ciò che aveva depositato trovava il prodotto finito la spada lo scudo l'elmo eccetera a questo punto egli lasciamo a stavolta il compenso per l'opera compiuta lo schema è sempre quello che conosciamo anche se con un cambiamento importante stavolta il misterioso partner è direttamente un dio Efesto e già avevamo visto balenare questo in quei naga quei geni c'è di mezzo il sopranaturale in questo tipo di scambio ma cosa sono poi i manufatti in metallo che Efesto procura ai propri clienti sono oggetti soprannaturali utile dirlo silenzio e reciproca assenza garantiscono in altre parole la natura soprannaturale del canale attraverso cui si realizza il passaggio dell'oggetto dal mondo umano al mondo divino e viceversa il tema che sottostà la vicenda di Efesto e dei suoi clienti chiamiamoli così sembra dunque occupare uno spazio particolare all'interno della pratica del commercio muto dietro l'elaborazione di questo racconto sta la ricerca di una risposta alla seguente domanda come può un mortale qualunque usufruire del lavoro di un dio perché se a richiedere delle armi ad Efesto è una divinità come Teti il problema non si pone semplicemente è la normale transazione fra umani si sposta sul piano soprannaturale i partner appartengono entrambi allo stesso ordine sono due divinità lo ricordavo ieri Eva Cantarella Teti va da Efesto e gli dici fammi le armi per Achille Efesto gliele fa a Teti si la prende sono due dei ma se io sono un umano e voglio chiedere delle armi a Efesto come posso fare? come posso fare? col commercio muto cioè le tradizionali regole la reciproca invisibilità fra i partner l'estrema giustizia che regola il rapporto eccetera eccetera rendono possibile l'impossibile posso commerciare con un Dio tanto non ci vediamo non ci parliamo mi avvio a concludere le mie riflessioni tornando a Filostrato il retore scrittore greco del secondo terzo dopo Cristo però ricordando un episodio narrato in un'altra opera sua la vita di Apollonio di Tiana cioè quel asceta filosofo pitagorico operatore di miracoli concorrente in qualche modo di Gesù Cristo che nel primo secolo dopo Cristo stupì meravigliò il mondo con le sue capacità taumaturgiche e le sue preleggenze eccetera eccetera allora nella vita di Apollonio di Tiana che il filosofo scrisse su incarico di Giulia Domna la moglie di Augusta la moglie di Settimio Severo si racconta che una volta Apollonio che era un viaggiatore viaggiava con i suoi seguaci fra l'Etiopia e l'Egitto si trovò di fronte a una quantità ora potete già immaginarlo di oro grezzo lino avorio radice e unguenti eroni che giacevano incustuditi a un Bibio ci risiamo si trattava di merci esposti lì dagli Etiopi per essere scambiati con gli Egiziani secondo la pratica ormai a noi familiare a questo punto Apollonio fa un'osservazione interessante un po' come l'aveva fatta il vignaiolo nell'eroico dello stesso autore e dice Apollonio i nostri bravi greci se da un obolo non ne lucrano un altro e non fanno salire il prezzo delle loro merci trafficando e accaparrandole dicono che non è possibile vivere era davvero bello il mondo in cui la ricchezza non era tenuta in alcun conto e fioriva l'eguaglianza e il nero ferro era riposto citazione di Esiodo perché la concordia regnava fra gli uomini e tutta la terra sembrava una sola patria quindi al commercio muto Apollonio contrappone le pratiche mercantili dei greci volte solo al lucro al guadagno illecito fondato sull'accaparramento delle merci di cui fanno salire il prezzo apposta e questa condanna viene pronunziata contestualmente alla rievocazione dell'età dell'oro quando la ricchezza era disprezzata e fra gli uomini regnava uguaglianza pace e giustizia alla luce di questa ultima riflessione di Filostrato possiamo credo capire meglio qual è il valore culturale della vicenda di cui abbiamo seguito fin qui le articolazioni il commercio muto il silent trade perché a noi questo ci interessa che significato culturale ha questa vicenda il commercio muto così come ci è descritto risponde a un preciso bisogno culturale cioè quello di liberare il commercio dalle caratteristiche che tradizionalmente l'accompagnano ossia l'inganno la menzogna la frode e l'avidità rendendolo conforme agli ideali che governarono la vita degli uomini durante l'età dell'oro pace rispetto e giustizia quindi è un mito che risponde a questa utopia è possibile sarebbe possibile realizzare il commercio senza ingannarsi a vicenda senza mentire senza usare parole menzognere questa è la risposta sì in questo modo però con queste caratteristiche naturalmente quando definiamo mito il commercio muto non vogliamo dire banalmente che si tratta di un racconto non veritiero al contrario è possibile che alcune delle testimonianze che abbiamo riportato e anche altre che abbiamo trascurato sono moltissime pur severate da leggenda corrispondano in qualche modo anche a pratiche reali che sono state effettivamente praticate se parliamo di mito è perché questo tipo di commercio reale o immaginario che sia costituisce comunque un modello ideale chiamato a rispondere a questo fondamentale quesito è possibile per gli uomini commerciare in regime di totale giustizia è possibile che essi vendano o acquistino merci senza inganno reciproco all'interno di un modello economico governato non dal lucro ma dalla diche dalla giustizia la pratica del commercio muto in cui gli uomini non hanno neppure bisogno di vedersi e neppure di parlarsi per commerciare in un regime di reciproca fiducia ha voluto rispondere affermativamente anche se probabilmente utopicamente a questa domanda fondamentale grazie 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 grazie